Una giornata di lavori, una giornata per la presentazione di quello che è il programma operativo della Regione Marche con il Fondo Sociale Europeo. Con quali prospettive torna a casa? Personalmente ho visto molte cose molto interessanti. Ho visto soprattutto una grande partecipazione e questo è sicuramente un buon viatico per chi il lavoro possa andare avanti. Uno dei titoli era Dalle parole ai fatti. È questo che abbiamo fatto. Abbiamo parlato, c'è la programmazione e poi c'è l'attuazione. Oggi entriamo veramente nel vivo e sono molto contento di aver visto tutta questa partecipazione anche da parte della sala. Grazie a tutti.